Il totale delle persone attualmente positive è di 98.273 con incremento di 1.396 pazienti rispetto a ieri. Prosegue il calo della pressione sulle strutture ospedaliere iniziato circa una settimana fa. Ad oggi sono infatti meno 108 rispetto a ieri. Oggi registriamo un numero di deceduti di 570. Dati giornalieri che si sa vanno presi con le pinze. Ad ogni modo la tendenza dei contagi a ribasso nel medio e lungo periodo è chiara. L'età mediana dei decessi è di 80 anni e colpisce soprattutto i maschi. Vedete le donne sono soltanto il 32%. Dall'Istituto Superiore di Sanità il Presidente Brusaferro affronta anche il tema doloroso dei decessi nelle strutture per malati, disabili e anziani. I numeri nelle RSA, ha detto, sono molto cresciuti ma lo hanno fatto mentre era già presente una mortalità legata ai picchi influenzali tipici dell'inverno. Il sud intanto continua a resistere bene ai contagi ma non per questo potrà essere escluso dal contenimento. Le misure ancora una volta dovranno sicuramente avere una scala nazionale perché non dimentichiamoci che anche nelle regioni dove oggi o nei comuni che appaiono qualche volta bianchi nelle nostre mappe, no, che non hanno casi, un bianco può diventare rapidamente rosso intenso, soprattutto anche nelle piccole comunità.